Sotto tutela il figlio di Gratteri, dopo la strana visita di due uomini incappucciati spacciatisi per poliziotti, anche il figlio del magistrato simbolo della lotta all'andrangheta dovrà muoversi scortato, intanto le indagini proseguono. Attentato a Bova servono risposte concrete, ad Amaroni un segnale di vicinanza forte da parte della politica e della società civile le parole del consigliere regionale, inutile nascondere la preoccupazione, il monito bipartisan, lo Stato arrivi a punire i colpevoli Burkina Faso e Calabrese, il bimbo ucciso, l'ennesimo attentato terroristico ordito dalle milizie islamiche di Al-Qaeda Miete un'altra vittima italiana, è il figlio di un ristoratore che si era trasferito in Africa per lavorare Quella voragine nel cuore di vivo, continuano i lavori di messa in sicurezza della zona evacuata il comune dice tutto sotto controllo e poi segnalate eventuali problemi i cittadini però l'avevano fatto un anno fa e rimasti inascoltati, da tre notti dormono in albergo I risultati di una domenica polare, il Cosenza fermato dalla neve a Martina Franca il Catanzaro conquista un punto prezioso a Caserta poi tutti i risultati della serie D, turno dolce per la regina, amaro, amarissimo per la vibonese Buon pomeriggio ai telespettatori di LACI, dunque questi principali fatti del giorno in apertura del nostro telegiornale L'oscura vicenda che vede al centro il figlio del magistrato simbolo della lotta all'andrangheta Nicola Gratteri raggiunto nella sua casa da due uomini incappucciati che si erano spacciati per poliziotti il giovane adesso si trova sotto tutela E' stato posto sotto tutela il figlio del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, protagonista di un episodio dai contorni ancora misteriosi ma che viene affrontato con la massima attenzione dalle forze dell'ordine La decisione è stata presa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo l'episodio sospetto di qualche giorno fa alcuni uomini hanno suonato al campanello dell'appartamento messinese dove vive il ragazzo dicendo di essere poliziotti dopo un po' quando il giovane si è affacciato sul pianerottolo poiché non vedeva arrivare nessuno ha notato due persone incappucciate scendere le scale del piano di sopra al suo l'episodio secondo quanto si è appreso è avvenuto nei giorni scorsi a Messina dove il figlio di Gratteri abita in un palazzo vicino all'università che frequenta il giovane ha subito avvertito la polizia che ha avviato le indagini per chiarire l'episodio e il padre che in quei giorni si trovava all'estero attorno alla famiglia di Nicola Gratteri in queste ore un'ondata di solidarietà dal mondo della politica e delle istituzioni nell'attesa che la procura di Messina faccia chiarezza sull'accaduto Francesco Creazzo per la Cineus 24 Restiamo alla cronaca e in particolare all'escalation di intimidazioni che si è registrata nelle ultime settimane in Calabria Ad Amaruni nel Catanzarese Consiglio Comunale dopo l'ultimo attentato subito dal Presidente della Commissione regionale anti-indrangheta Arturo Bova Un Consiglio Comunale aperto per dire che Arturo Bova non è solo che andrà avanti con il sostegno del suo partito della politica senza distinzione di colore dei cittadini onesti schierati senza sé, senza ma al suo fianco Il secondo attentato subito dal consigliere regionale recentemente eletto al vertice della Commissione anti-indrangheta di Palazzo Campanella scuota ancora di più le coscienze e così il Palazzo Municipale di Amaruni il centro del Catanzarese del quale il noto penalista è stato per lungo tempo anche sindaco si scopre troppo piccolo per accogliere un affetto ed una stima così grandi Un grido univoco bipartisan che riporta l'incendio dell'auto di Bova alla stregua del doppio attentato incendiario della scorsa primavera nei suoi confronti nell'albio di uno stilicidio di intimidazioni contro gli amministratori locali calabresi da gioiosa ionica a Martone senza considerare i gravi episodi che nelle ultime settimane hanno visto ancora vittime giornalisti, professionisti, imprenditori e perfino il figlio del procuratore, Nicola Gratteri si è detto la solidarietà non basta più servono fatti concreti più risorse a magistratura e polizia giudiziaria più risultati sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e non affinché le minacce, le intimidazioni, gli attentati non restino impuniti Pietro Comito non nasconde la preoccupazione ma guarda coloro i quali vivono una condizione ancor più difficile lo stesso Arturo Bova ecco cosa ha dichiarato a margine del Consiglio Comunale Aperto tenutosi ad Amaroni si vive male, chi dice che lo affronta con tranquillità o con non cialanza probabilmente mente perché si vive male, si avverte il pericolo due bambine, la famiglia, i genitori, i anziani però è uno quando si prendono, si candida a certi livelli soprattutto al Consiglio regionale sono cose che si debbano mettere in conto ci candidiamo in terra di Calabria io dico solo una cosa non è una minaccia che è arrivata solo ad Arturo Bova purtroppo questa è una minaccia che è arrivata pure a tutto il Consiglio regionale all'azione di governo che è stata messa in campo in questi tempi il mio pensiero va ai tanti sindaci, ai tanti amministratori ecco che il fatto di Arturo Bova che ha avuto un eco come al solito perché sono consigliere regionale ma ci sono sindaci e amministratori comunali ma rappresentanti delle associazioni imprenditori che stanno subendo l'indicibile che magari si risolve nel solito Consiglio comunale nella solita PAC il mio pensiero va a tutti loro se bruciano la macchina ad Arturo Bova Arturo Bova comunque ha uno stipendio di consigliere regionale che ti consente anche di riacquistarlo se bruciano la macchina ad un sindaco ad un consigliere comunale ad un giovane imprenditore che già fa i salti mortali e non trova aiuto e poverini magari in quei casi non c'è la copertura assicurativa perché quel sindaco non si può permettere nemmeno l'assicurazione contro l'incendio non serve o comunque non basta la solidarietà servono invece uomini e mezzi per le forze dell'ordine affinché su attentati e intimidazioni si faccia chiarezza così il presidente della regione Mario Oliverio il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno e il presidente del consiglio regionale Nicola Irto bisogna alzare l'attenzione bisogna che si rafforzi il contrasto da parte dello Stato attraverso strumenti adeguati per che vengano individuati e colpiti i responsabili e si diano segnali chiari di un blocco di questa spirale che non può essere tollerata La nostra idea è che ci vuole una reazione popolare che possa portare vera indignazione altrimenti in Calabria siamo abituati a reagire il giorno stesso dell'episodio e poi considerare un fatto di questo tipo una routine questa deve essere un'emergenza vera e propria che rimanga nel tempo Siamo molto preoccupati per l'escalation che si sta vivendo in Calabria ogni giorno non facciamo altro che fare consigli comunali fare dichiarazioni penso all'emergenza nella Locride dove vengono attaccati gli amministratori dove vengono bruciati i pulmini degli scuola bus un consigliere regionale Arturo Bova due macchine sei mesi fa bruciate oggi un'altra oggi è presidente della commissione Antindrangh ed è uno che si muove molto sul territorio questo è un attacco all'istituzione e a questo punto dobbiamo essere un noi dobbiamo essere uniti dobbiamo rilanciare sul terreno della legalità non arretrare di un millimetro e soprattutto chiedere al governo nazionale un aiuto concreto in termini di uomini e mezzi alla magistratura e alle forze dell'ordine Restiamo alla cronaca a origini calabresi l'unica vittima italiana dell'attentato terroristico di Al-Qaeda avvenuto venerdì scorso in Burkina Faso si tratta di un bambino di nove anni figlio del gestore di un ristorante si chiamava Michelle e aveva solo nove anni ha il volto di un bambino i lineamenti di congiunzione tra più culture l'unica vittima italiana dell'attacco terroristico di Al-Qaeda a Uga Dogu in Burkina Faso di venerdì scorso per la farnesina Miscia come tutti lo chiamavano era all'interno del locale gestito dal padre Gaetano Santomenna italiano di origini calabresi salgono così a 29 le vittime dell'agguato che ha trasformato un hotel di lusso e un rinomato ristorante per stranieri le Cappuccino Caffè in una trappola per topi un inferno durato 12 ore e rivendicato da Al-Qaeda per il Maghreb islamico terminato solo con l'intervento congiunto delle forze speciali francesi e di quelle locali 126 le persone portate in salvo 29 le vite perse di 18 nazionalità differenti tra queste anche la moglie del titolare del ristorante Gaetano Santomenna calabrese aveva anche due panifici nella città e aveva sposato una donna di origini ucraine il bambino era con lei e la zia all'interno del locale quando è scattato il blitz terroristico in un attimo Santomenna ha perso tutta la sua famiglia tanti messaggi di solidarietà arrivati a partire da quelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Matteo Renzi rimane la vita polverizzata di un padre che viene ora assistito dall'unità di crisi dal console onorario a Bugadogu e dall'ambasciatore d'Italia ad Abidijan Alfonso Di Risi che si è recato sul posto Tiziana Bagnato per la C News 24 L'agricoltura resta uno dei comparti produttivi nel quale si registrano più illeciti ai danni dello Stato e dell'Europa lo conferma l'ultima operazione condotta dalla Guardia di Finanza Cosentina Truffa ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta sono le accuse mosse ad un consorzio agricolo di produttori della Sibaritide gli uomini delle Fiamme Gialle Cosentine al termine di un'articolata attività investigativa hanno scoperto un'evasione fiscale per circa 11 milioni di euro e un'indebita percezione di contributi pubblici per un importo complessivo di quasi 3 milioni La truffa era stata messa in piedi con la costituzione di due società La prima aveva il compito di sovraffatturare il costo dei lavori e delle prestazioni di servizio La seconda invece attraverso l'emissione di false fatture per un totale di circa 4 milioni di euro aveva consentito la restituzione del denaro messo in circolo La società agricola inoltre nel periodo tra il 2011 e il 2013 aveva denunciato all'Inps 319 falsi braccianti La fittizia dichiarazione di circa 68 anni di lavoro aveva dunque consentito di ottenere indebite indennità previdenziali e assistenziali per oltre un milione di euro All'esito delle indagini il Tribunale di Castrovillari ha disposto il sequestro dell'intero opificio e di un impianto industriale per la lavorazione di prodotti agricoli per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro Rossana Muraca per la Cineus 24 Marcia e veglia di preghiera per la città di Cosenza la 17esima edizione organizzata dalla Diocesi si è svolta nella giornata internazionale dei migranti Una carovana di fedeli in preghiera ha sfidato il freddo della città di Cosenza per partecipare alla 17esima edizione della Marcia della Pace organizzata anche quest'anno dalla Diocesi della città Abruzia e dal vescovo Monsignor Francesco Nolè Una maratona di veglia e preghiera alla quale hanno preso parte il sindaco di Cosenza Mario Chiuto i sindaci di tutta la provincia il prefetto della città Gianfranco Tomao autorità a forze dell'ordine il mondo delle associazioni della stampa e cittadini comuni Il corteo di uomini e donne con delle fiaccole in mano è partito da Piazza dei Bruzzi in tarda serata snodandosi per le vie della città fino a raggiungere la cattedrale del centro storico dove si è tenuta la celebrazione della Santa Messa Durante l'omelia si è riflettuto e pregato il messaggio del Papa Vinci l'indifferenza e conquista la pace Il Vescovo Molè nell'anno giubilare della misericordia in occasione del 600esimo anniversario della morte di San Francesco di Paola patrono della Calabria ha invitato i fedeli a cercare la pace con i propri fratelli contribuendo a sostenere i deboli in difficoltà Con la certezza che la marcia possa dare degli slogan bisogna lavorare nelle nostre realtà a partire da noi stessi La pace però è questione di cuore E questo è il messaggio proprio di Cristo che l'Arcivescovo Bruzio condivide con tutti gli uomini di fede presenti alla marcia Rossana Muraca per la CNews 24 Parliamo adesso di giustizia Soriano Calabro un importante incontro sul processo penale e il contrasto alle mafie tra i protagonisti importanti operatori del mondo del diritto calabrese Processi di mafia tra legislazione prassi e risultati questo è il tema del convegno tenutosi nella cornice della biblioteca di Soriano al quale hanno preso parte autorevoli esponenti del mondo della giustizia calabrese gli strumenti la durata del processo le riforme in atto si è cercato insieme di riflettere sulla necessità di avere più strumenti perché i processi di mafia vengano fatti in maniera tempestiva e in maniera da dare dei risultati d'altro canto è emerso nel corso del convegno che non possa essere demandato al processo penale il compito di contrastare la mala pianta della mafia la mafia va combattuta perché se non si estirpa non si ottiene alcun risultato sul piano della civiltà e del progresso in Calabria il punto è quello di stabilire come fare per combatterla non certo col processo penale perché il processo penale serve per accertare delle responsabilità individuali e per applicare una pena noi dobbiamo recuperare per il processo penale l'autorevolezza dei nostri giudici la distinzione tra chi raccoglie le prove e chi poi giudica è l'equilibrio delle forze in campo un incontro importante sul mondo della giustizia dal quale trarre un bilancio positivo un messaggio che viene mandato alla società un messaggio culturale un messaggio di attenzione di sensibilità per questi territori se è vero che la mafia come è vero non è altro che un fenomeno culturale non c'è dubbio che solo instillando nuove culture si possa contribuire nel tentativo di arrestare questo fenomeno Cristina Iannuzzi per la CNews 24 a Vibo Valencia non è ancora rientrato l'allarme per la voragine che si è aperta in via Carlo Parisi i tecnici del comune tranquillizzano i residenti evacuati che però non hanno alcuna certezza per il loro rientro a casa il nervo scoperto della malagesto politica amministrativa di Vibo Valencia si è scoperto davvero la voragine di via Carlo Parisi nonostante le rassicurazioni mette a nudo una criticità atavica l'intera rete idrico-fognaria infatti già da tempo definita con la brodo per tutte le perdite sul tracciato causa danni che potenzialmente minano l'incolumità pubblica senza che comunque ad oggi vi siano state prese serie iniziative di miglioramento e ristrutturazioni è chiaro che quando c'è una segnalazione di pericolo non bisogna lasciare e intervenire subito per tentare di risolverlo come in questo caso si sta facendo la zona è evacuata cioè gli abitanti qua non c'è nessuno il palazzo è monitorato c'è la protezione civile i vigili e stiamo cercando proprio di evitare che qualcuno possa farsi male anche perché dicevano che già più sotto ci sono altre piccole voraggini sotto l'altra casa quella dove c'è un ex studio legale del defunto avvocato Giuliani è disabitato abbiamo già telefonato anche la famiglia che è a Parma l'altro immobile c'è comunque il divieto quindi sarà monitorato tutto poi i tecnici chiederanno anche a noi quello in cui possiamo essere utili un invito che però avevano colto inascoltati i cittadini evacuati di via Carlo Parisi che sottolineano da almeno un anno il problema agli uffici di competenza stiamo aspettando di rientrare la speranza nostra è di rientrare e attualmente dove siete locati? siamo in albergo siete in albergo? sì e vi hanno detto per quanto tempo dovrete rimanere lì? no, non sappiamo niente per loro questa è la terza notte passata fuori casa Angelo De Luca per la CNews24 Al comune di Vivo Valencia come avete sentito nel servizio precedente la situazione di via Carlo Parisi era stata per tempo segnalata nessuno però era intervenuto e oggi il dirigente preposto dice tutto è sotto controllo stiamo lavorando per cercare di mettere in sicurezza tutto quanto il luogo questo significa che dobbiamo ripristinare completamente l'ufficiosità del vecchio del vecchio canale l'importante è nel momento in cui arriveranno grosse portate d'acqua questo canale possa reggere nel caso in cui domani possa piovere in maniera abbastanza pesante questo canale possa reggere la portata dell'acqua questo è quello che ci preme di più in questa fase ma ragionando per ipotesi il pericolo maggiore rispetto a questi fatti quale potrebbe essere? non c'è un grande pericolo in questo momento se non il fatto che abbiamo che la strada è sfondata che il palazzo sembra che sia in buone condizioni perché è su una platea e quindi non ha non subisce grandi problemi non ha grandi problemi statici e basta tutto qua non ci sono problemi se non questi qua diciamo che lavoraggine si può creare laddove sotto non c'è niente tipo appunto le strade esattamente difficilmente può succedere sotto le case sotto questa casa sicuramente no le altre case non le sappiamo come sono messe sono case anche queste vecchie non si sa noi abbiamo la certezza di come siano state realizzate i lavori dovevano partire già ad inizio gennaio ma nulla si è ancora mosso siamo sempre a Vibo Valencia dove piazza Anna Rumma da parco giochi affollato da bambini rimane luogo simbolo del degrado è passato quasi un anno da quando una ruspa ha abbattuto gli alberi secolari di piazza Anna Rumma al centro di Vibo Valencia durante i lavori sono andati distrutti anche i giochi va nelle proteste dei cittadini che hanno tentato in tutti i modi di bloccare quello che è stato definito uno scempio per l'ambiente gli stessi cittadini che ora come gli era stato promesso aspettano l'avvio dei lavori di riqualificazione e lo hanno chiesto a caratteri cubitali in toni provocatori negli striscioni che da mesi tappezzano l'ex Pinettina oggi divenuta uno dei simboli del degrado cittadino abbandonata se stessa proprio sia per i bambini per gli animali per noi che vogliamo fare una passeggiata per tutto degrado cosa spera? che venga ripristinato un minimo di buonsenso in tutti che quantomeno diventi il solito parco per i bambini per le famiglie insomma qualcosa di decente e di bello che nella città non c'è più prima era bellissimo qui ora no prima lo ricordiamo era circondato di alberi alberi che erano favolosi erano rappresentavano secondo me una delle pochissime bellezze della città adesso invece l'unica cosa di bello che c'era è stata comunque abbattuta non è cosa vergognosa speriamo che la riparino presto anche per i bimbi perché così è una vergogna per Vibo Cristina Iannuzzi per la C News 24 restiamo a Vibo Valencia ma per un lieto evento le 100 candeline di Francesco Iannello un uomo speciale che festeggia la ricorrenza in una giornata particolare e che ha una vita ricca e intensa da raccontare soldato operaio marito padre nonno 100 anni per Francesco Iannello candeline spente nel giorno in cui tra l'altro ha festeggiato anche i 73 anni di matrimonio con la donna della sua vita Saveria Dettaluccia da cui ha avuto quattro magnifici figli originario di Triparni nella casa della figlia Adriana a Vibo Valencia una bella festa per un grande uomo che ha incardinato la sua vita su principi e valori bensaldi prima di tutto la salute poi il lavoro poi ancora amare il prossimo avere un pezzo conoscere le persone se anche sono cattive noi le dobbiamo amare e rispettare benissimo perché come noi sono come noi tante storie da raccontare per colui che gli amici chiamano C.Q. Barracu un uomo che ha vissuto col sacrificio della fronte gli anni dell'industrializzazione vibonese e che ancora prima da militare nella seconda guerra mondiale dall'8 settembre 1943 nel giorno del proclama di Badoglio quando era a distanza in Grecia risalì a piedi con un commilitone i Balcani e poi ridiscese alla penisola per tornare a casa un viaggio di molte settimane ricordo di una vita lunga e oggi dopo aver spento le sue 100 candeline la parola d'ordine resta andiamo avanti andiamo avanti Davibo Valencia per la CINUS24 Apriamo adesso la pagina dello sport con risultati e classifica del campionato di Lega Pro che vede impegnate le compagini calabresi questi risultati può partire dalla grafica Acragas Matera 1-4 Lupa Castelli Romani Ischia finisce in parità 2-2 Juve Stabia Melfi 1-1 Messina Benevento 0-5 Foggia Paganese 2-2 Andrea Lecce 0-0 Rettini inviolate anche per Catania Monopoli 0-0 Casertana Catanzaro 2-2 Martina Franca Cosenza rinviata a causa neve per questa classifica la possiamo vedere Casertana 35 punti Foggia 33 Benevento 32 Lecce 31 Cosenza 30 Matera 28 punti Messina 25 Andria 24 Catanzaro 23 punti Juve Stabia 22 Monopoli 20 punti Paganese Catania 19 punti Melfi 18 punti Acragas 16 punti Ischia 15 Martina Franca 11 punti Chiude la classifica Lupa Castelli Romani con 7 punti Con il Cosenza fermato dalla neve a Martina Franca e il Catanzaro protagonista strappando via da Caserta un punto pesante Ecco passiamo adesso alla serie D prima degli highlights risultati e classifiche Bene può partire la grafica per quanto riguarda appunto la serie D eccoli i risultati Gelbison Versa Normana 3 a 0 Palmese Cavese 0 a 1 Vibonese Siracusa 0 a 3 Agropoli Leonfortese 0 a 0 Noto Sarnese 0 a 0 Reggio Calabria Roccella 3 a 0 Gragnano Rende finisce in parità 1 a 1 Frattese Marsala 3 a 1 Scordia Vigor Lamezia 1 a 0 per questa classifica Frattese 44 Cavese 42 Siracusa 40 Reggio Calabria 35 punti Sarnese 31 Dersa Normanna Leonfortese Vibonese 30 punti Due Torri 29 Noto 27 Gragnano 26 punti Palmese 25 Agropoli Marsala e Rende 23 punti Roccella e Gelbison 21 punti Scordia 16 punti Vigor Lamezia chiude la classifica con 12 punti La regina infila il decimo risultato utile di fila asfaltando i cugini del Roccella Al granillo ruba la scena Bramucci autore della tripletta che stende la squadra di Galatima Vediamo il servizio E' il decimo risultato utile di fila nessuno in campionato inanellato così tanti segni più in classifica La regina di Cicciocozza asfalta il Roccella nel derby tutto calabresia della terza di ritorno vendicando così il capò subito all'andata Il risultato è quasi lo stesso di un girone fa ma squadre invertite Ieri come oggi tra i marcatori Amaranto c'era un certo Bramucci Allora il suo gol la servì solo a rendere meno amaro il passivo nel return match ha praticamente da solo annichilito i galati boys Al sedicesimo Reggio è già avanti Oggiano dà il lago con un cross perfetto che il giovane attaccante di casa deve solo spingere in rete di testa Il Roccella è stordito e pochi secondi dopo subisce il bis l'asse è la stessa Oggiano per Bramucci ed è 2-0 Il tris arriva ad inizio ripresa e il settimo quando l'attaccante marchigiano può tranquillamente infilare per la terza volta il portiere avversario Al granillo insomma è Bramucci show Troppo poco ha fatto il Roccella per arrginare il bomber di casa è la prima tripletta della storia dell'ASD peccato solo che non serva ad accorciare le distanze con la vetta della classifica Da Reggio Calabria per la CNews 24 Alessio Bompasso Seconda sconfitta di fila per la Vibonese Luigi Razza il Siracusa cala il tris e per il rosso-blu di Mister Di Maria è buio pesto La Vibonese non morde il Siracusa ringrazia e strappa via da Luigi Razza l'intera posta in palio come il Rende due settimane fa anche gli R2-6 violano lo stadio rosso-blu è la seconda volta consecutiva in due partite interne in questo girone di ritorno i di Maria Bois sembrano la brutta copia della formazione ammirata a Marsala a complicare le cose il gol ha subito a freddo realizzato da Nicola Arena ex Reggio reattivo nell'approfittare degli spazi lasciati dalla retroguardia di casa un gol che estordisce la Vibonese praticamente mai in partita troppo poco robusta in avanti saranita in panchina allegretti da solo può fare veramente poco contro la difesa siracusana gli ospiti concedono solo qualche punizione dal limite e sul finire della prima frazione Crucitti va vicino al bersaglio grosso spaventando i siculi è solo un abbaglio perché nella ripresa la colonna sonora del match intona sempre note siciliane il Siracusa amministra il vantaggio la Vibonese ci prova a spaccare il muro eretto dagli ospiti i palloni in porta arrivano ma d'Alessandro fa buona guardia e da quelle parti non passa neppure uno spillo e quando Manzo lascia in dieci rosso-blu il match è praticamente chiuso De Zai cala il bis al ventesimo e nel finale Catania cala anche il tris risultato un po' troppo rotondo forse ma vittoria mai in discussione da Vibo Valencia per la Cineus 24 Alessio Bompasso il Rende strappa un buon punto in chiave salvezza sul campo del Gragnano pertanto per i bianco-rossi la lotta per la permanenza in serie D continua dopo il pareggio di la mezza terma il Gragnano torna tra le 1-0 del San Michele per il più classico degli scontri salvezza inizio di partita equilibrato con il Rende che dimostra di essere venuto a giocarsi l'avviso aperto al nono alla prima vera chance il Gragnano passa lancio di Vittiello in profondità per Foggia che stoppa salta scarnato e a tu per tu con il fortiere De Brasi lo brucia con un preciso destro ancora Foggia sugli scudi al ventunesimo cross di odierna la Monica domestica e serve il centroavante che batte a colpo sicuro De Brasi si supera deviando in corna il Rende al trentunesimo sfiora il pari con Gargiulo che di piede rischia l'autogol cogliene un clamoroso pale ancora ospiti in avanti al quarantaquattresimo Zangaro ben lanciato si trova tu per tu con Salineri che respinge il sinistro del numero 10 calabrese la ripresa si apre con una nuova conclusione di sinistro da parte di Foggia da posizione defilata De Brasi neutralizza senza particolari problemi ancora Geloblen avanti all'undicesimo centro di Foggia per Carfora che conclude ma De Brasi è reattivo a dirgli di no al sedicesimo Zangaro si invola sulla destra ed appena dentro l'aria conclude tiro potente ma alto al diciannovesimo enorme occasione per il raddoppio ancora sui piedi di Cirofoggia pallonetto a scavalcare De Brasi ma la spera termina alta sopra la traversa al trentaduesimo invucata di Vitiello al limite dell'aria per Leone che controlla e tira palla di poco a lato alla destra di De Brasi vi fa vedere per la prima volta nel match Actis Goretta al trentottesimo Saline riga e spinge ed è super poi su Kire Mateng comunque in fuorigioco i calabresi trovano il pari al quarantatresimo punizione di Musca testa del neo entrato Feraco che batte il portiere granianese per l'uno a uno sfuma sui titoli di coda il possibile pareggio della Vigor in casa dello Scordia vincono i padroni di casa all'ultimo secondo di gara vediamo vittoria doveva essere e vittoria è stata con tanta tantissima sofferenza lo Scordia finalmente riesce a sfatare il tabù Binanti vincendo 1 a 0 all'ultimo minuto di recupero al novantaquattresimo contro la Vigor la Mezzia decisivo un gol del giocatore più importante della squadra scordiense Peppe Mascara che realmente ha preso per mano questa squadra ha preso per mano i suoi compagni e li ha trascinati alla vittoria in una partita sofferta in cui è successo praticamente di tutto negli ultimi minuti lo Scordia poteva anche perdere poi è arrivata la perla di Peppe Mascara che ha regalato i tre punti alla squadra del presidente Gallo e prima di chiudere andiamo a vedere il buon pareggio del Catanzaro strappato a Caserta ci pensa il Catanzaro a rendere ancora più combattuta la lotta alla vetta la formazione gelorossa stoppa la casertana sul 2 a 2 al termine di una partita pazzesca folle per quello visto in campo sorpassi e controsorpassi hanno incendiato una sfida che nel primo tempo aveva illuso la formazione di Alessandro Erra passata in vantaggio con la botta volante di Mancuso che aveva mutolito l'Alberto Pinto poi una ripresa scoppiettante in cui i campani ribaltano il risultato prima di farsi riacciuffare all'ultima curva dalle acquele gelorosse quando il match sembrava praticamente chiuso sotto per 2 a 1 in virtù del pari di casa firmato da De Angelis e il timbro di Jefferson all'ottantatresimo il Catanzaro perde Maita per doppio giallo la gara in ghiaccio pensa la capolista lo è però solo fino ad una manciata di secondi dal gong quando su una serie di rimpalli Razzitti trova la deviazione decisiva e fa 2 a 2 rovinando la festa ai falchetti ed è un punto pesante per gli R-Boys da Caserta per la Cineos 24 Alessio Bonpasso è tutto grazie per aver preferito la nostra informazione bene come sempre adesso un breve riepilogo dei principali servizi del nostro telegiornale buon proseguimento è stato posto sotto tutela il figlio del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri protagonista di un episodio dai contorni ancora misteriosi ma che viene affrontato con la massima attenzione dalle forze dell'ordine la decisione è stata presa dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica un consiglio comunale aperto per dire che Arturo Bova non è solo che andrà avanti con il sostegno del suo partito della politica senza distinzione di colore dei cittadini onesti schierati senza sé senza mal al suo fianco il secondo attentato subito dal consigliere regionale recentemente eletto al vertice si chiamava Michelle e aveva solo nove anni ha il volto di un bambino i lineamenti di congiunzione tra più culture l'unica vittima italiana dell'attacco terroristico di Al Qaeda a Uga Dogu in Burkina Faso di venerdì scorso per la farnesina Miscia come tutti lo chiamavano era all'interno del locale gestito truffa ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta sono le accuse mosse ad un consorzio agricolo di produttori della Sibaritide gli uomini delle fiamme gialle cosentine al termine di un'articolata attività investigativa hanno scoperto un'evasione fiscale per circa 11 milioni di euro ci pensa il Catanzaro a rendere ancora più combattuta la lotta alla venta la formazione giallorossa stoppa la casertana sul 2 a 2 al termine di una partita pazzesca folle per quello visto in campo sorpassi e controsorpassi hanno incendiato una sfida che nel primo tempo aveva illuso la formazione di Alessandro Erra passata in battaglia visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia